Gentili telespettatori, buona giornata. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, convoca il Consiglio Supremo di Difesa. È un organismo formato dal Capo del Governo, il Presidente della Repubblica, i vertici dei servizi segreti e i vertici delle quattro forze armate. Quindi c'è il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, il Comandante Generale dell'Esercito, il Comandante Generale dell'Aviazione Militare e il Comandante Generale della Marina Militare. È un Consiglio Supremo di Difesa che si riunisce solo in casi estremamente eccezionali, quando c'è da monitorare una situazione abbastanza difficile. Il Consiglio Supremo di Difesa è per mercoledì 23 ottobre alle 10 del mattino. L'ordine del giorno prevede l'esame dell'evoluzione dei conflitti che ci sono nel Medio Oriente e non solo, delle iniziative in ambito internazionale ed europeo e dello Stato, delle missioni militari italiane nella regione medio orientale, dopo che abbiamo visto quello che sta succedendo in queste ore con le basi Unifil, dove ci sono delle truppe italiane, ci sono tre basi italiane di cui c'è anche una base di elicotteri da combattimento in Libano. L'Unifil sono forze di interposizione tra due belligeranti, quindi sono forze di pace, sono lì per tenere distanti i due litiganti. Con quello che abbiamo visto succedere in questi giorni, con il problema dell'Iran, ci sono diversi scenari assolutamente problematici nello scacchiere mondiale e quindi il Consiglio Supremo di Difesa si era riunito per esempio il 12 settembre del 2001 con le torri, dopo le torri, quindi il Consiglio Supremo di Difesa si riunisce proprio per fare un punto della situazione, sapete che viene riunito dal Presidente Sergio Mattarella che ufficialmente è il capo delle forze armate. Vediamo se troviamo delle notizie aggiuntive. Il Consiglio Supremo di Difesa, la sigla è CSD, è un organo di rilievo costituzionale della Repubblica Italiana per le problematiche riguardanti la sicurezza e la difesa della Repubblica Italiana. È stato istituito il 28 luglio del 1950, in questo momento il Presidente del Consiglio Supremo di Difesa è Sergio Mattarella, il Vice Presidente e il Capo del Governo Giorgia Meloni, il Segretario e Francesco Saverio Garofani. La sede è proprio all'interno del Castello del Quirinale. I costituenti italiani del 1947, in base a quello successo anche nella repubblica francese. Questo venne istituito durante la guerra di Corea e il timore di un'estensione del conflitto all'Europa e ne entrarono a far parte i massimi responsabili politici, tecnici della sicurezza della sicurezza nazionale. Intanto le caratteristiche, come vi dicevo, il Presidente della Repubblica esamina i problemi generali politici e tecnici attinenti alla difesa nazionale, determina i criteri e fissa le direttive per l'organizzazione e il coordinamento delle attività che comunque la riguardano. Pertanto il fatto che lui presieda questo organismo fa intendere che il Presidente della Repubblica vuole sapere la situazione e può dare delle direttive per l'organizzazione e il coordinamento delle attività che riguardano la problematica. Quindi è un Consiglio Supremo di Difesa che non è operativo durante lo stato di guerra dichiarato, quindi il Consiglio Supremo di Difesa si occupa di un'eventuale difesa della Repubblica però quando il Paese non è in uno stato di guerra. Come vi dicevo c'è il Capo di Stato Maggiore della Difesa, il Ministro dello Sviluppo Economico, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il Ministro dell'Interno, il Ministro della Difesa e il Ministro degli Affari Esteri, ma in aggiunta ci sono anche i vertici dei servizi segreti e con il Capo di Stato Maggiore della Difesa ci sono anche i comandanti delle quattro forze armate che è l'esercito, la marina, l'aeronautica e la quarta forza armata che è l'arma dei carabinieri. Bene, a questo punto c'è anche poi il fatto che in caso dovesse essere dovesse essere dichiarato lo stato di guerra, sapete che il Presidente della Repubblica è il comandante in capo delle forze armate e quando poi c'è una guerra dichiarata il Presidente della Repubblica da il comando delle operazioni aereo navali e terrestri la affida al Presidente del Consiglio che c'è in carica in quel momento. Quindi il Comando Supremo passerebbe da Mattarella, virrebbe affidato al Presidente del Consiglio che darebbe le direttive su tutti i fronti agli alti comandi militari, quindi al Capo di Stato Maggiore della Difesa e ai comandanti delle quattro forze armate. Grazie a tutti per avermi ascoltato, vi auguro buon proseguimento di giornata, ci vediamo tra poco per un altro video e vi auguro buon proseguimento di giornata.